Non ce l'ha fatta neanche il figlio Giorgio, di 60 anni. La violenta esplosione avvenuta lo scorso giovedì 27 settembre in un'abitazione a Sanzio, nel comune di Cerreto Guidi, ha ucciso prima Vanda, la madre 88enne di Giorgio, dopo un ricovero di nemmeno due giorni all'ospedale Cisanello. Le ossioni sul 90% del corpo non le hanno lasciato scampo. Ora la morte del figlio trasforma l'esplosione in una vera e propria strage. Resta in gravi condizioni la 62enne Mary, anche lei figlia di Vanda, ricoverata a Cisanello. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo e incendio colposo. Una volta eseguite le perizie il nome di qualcuno potrebbe finire sul registro degli indagati. Imputato principale l'impianto dell'abitazione, gli inquirenti sospettano infatti che l'esplosione possa essere stata causata da un malfunzionamento, in particolare da una perdita. Se così fosse, ad essere chiamati in causa potrebbero essere tutti coloro che avevano la responsabilità di garantire la sicurezza dell'impianto. Quando esplosa infatti, poco prima della mezzanotte, l'abitazione era completamente satura di gas. È bastato poco per innescare l'esplosione. L'onda d'urto ha fatto saltare gli infissi delle finestre, che sono volati via sfondando anche i vetri di alcune auto che erano parcheggiate, a pochi metri di distanza. I primi a portare i soccorsi sono stati due vicini di casa. Hanno aiutato i vigili del fuoco a trarre in salvo Vanda Vignozzi e i suoi due figli. Niente, gli ho strappato i vestiti di dosso, però loro erano... lei l'ho portato qui Giorgio, Giorgio l'ho spugliato qui. Ma dopo pochi giorni, la speranza di averli trovati vivi si è trasformata in disperazione.